Emergenza coronavirus. I numeri ufficiali della regione Lombardia evidenziano una situazione stabile. Da domani si potrà uscire di casa solo con mascherine o foulard. C'è di nuovo troppa gente in giro, intensificati i controlli sulle strade, a Clusone in campo anche agenti in Borghese. Stiamo vivendo una crisi sanitaria e sociale ma con forti ricadute anche a livello emotivo. Per questo l'ambito della media e bassa Valle Seriana ha messo a disposizione un servizio di supporto psicologico. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In apertura la cronaca svolta nelle indagini per l'uccisione di Cosimo Enrico, professore di 58 anni, trovato senza vita nell'ottobre 2018 ad Entratico. Sentiamo Vladimir Lazzarini. I carabinieri di Bergamo hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Cosimo Enrico, il professore di 58 anni ucciso con numerose coltellate, il cui corpo era stato trovato semicarbonizzato ad Entratico il 3 ottobre del 2018. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un cittadino indiano di 58 anni, Pal Surinder, residente a Casazza, indagato per omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo era dipendente presso la cascina dei fiori, struttura teatro dell'omicidio che la vittima gestiva come fattoria didattica. Per la sua identificazione sono state molto importanti le attività condotte sulla scena del crimine, anche con la tecnica del luminol, grazie alla quale sono state evidenziate diverse serie di impronte plantari lasciate per deposito di sangue, alcune particolarmente nitide, tanto da rendere perfettamente identificabile il marchio e la misura delle scarpe calzate dall'assassino. Attraverso una complessa attività di indagine è stato individuato il modello esatto di queste scarpe. Si è così risaliti a tutti i punti vendita delle province di Bergamo e Brescia attraverso i quali erano state messe in commercio. È stato identificato un gran numero di acquirenti, acquisendo e interpolando le generalità con pagamenti bancomat, tessere sconti fedeltà, presenza sui luoghi con riscontri da tabulati e altro. Tra questi risultava anche la moglie di Cosimo Enrico, la quale ha raccontato poi agli inquirenti di aver comprato quelle scarpe proprio per il marito e che quest'ultimo le aveva regalate a qualcuno dei suoi operai della cascina, così come aveva fatto già altre volte con altri indumenti. Gli inquirenti hanno poi accertato che quelle scarpe erano nella disponibilità dell'arrestato. Altri collaboratori della vittima hanno riferito che Pall Surinder nutriva motivi di risentimento verso Cosimo Enrico, a causa di progressi e continui dissidi maturati in ambiente lavorativo e legati al fatto che la vittima in passato lo aveva sorpreso a rubare in cascina. La sera dell'omicidio l'indiano si trovava probabilmente in cascina per perpetrare un furto e messo alle strette da Enrico avrebbe a quel punto reagito in maniera incontrollata, accoltellando a morte alle spalle e al collo la vittima. Per tentare di cancellare le tracce avrebbe poi cosparso il corpo ormai esanime con della benzina prelevata dal magazzino e gli avrebbe dato fuoco. E adesso l'emergenza coronavirus. Da domani, domenica 5 aprile, fino al prossimo 13 aprile restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l'intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo. Lo ha comunicato in una nota la regione, in particolare il documento conferma la chiusura degli alberghi con le eccezioni già in vigore, degli studi professionali, dei mercati e di tutte le attività non essenziali. Inoltre sarà possibile acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, esercizi già aperti. Sarà anche possibile la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio. L'ordinanza del presidente della regione introduce anche l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici fular o sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. Ma vediamo questo messaggio che il presidente della regione ha pubblicato oggi su Facebook. Amici, le giornate sono belle, la primavera è iniziata, la voglia di uscire è tanta, ma non si può, non si può ancora, non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo concludere la nostra opera, il nostro impegno deve proseguire, altrimenti lo sforzo fatto fino ad oggi risulterà vanificato e i numeri ricominceranno a peggiorare. Vi prego e vi insisto, non uscite di casa, se non nelle condizioni autorizzate e lecite. Vi dico una cosa in più, dovrete quando potete uscire di casa coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus, se per caso siete portatori. Mi raccomando, rispettate le regole e rimanete a casa. E a livello di numeri, la situazione in regione Lombardia rimane sostanzialmente stabile, come ha detto oggi nel consueto punto stampa l'assessore al Welfare Giulio Gallera. I dati oggi, allora, i dati sono in linea con quelli di ieri, nel senso che abbiamo il numero dei tamponi positivi è di 49.118, siamo a più 1.598, li scrivono così piccoli che io che nonostante a 50 anni non uso ancora gli occhiali vogliono sfidarmi a provare ad utilizzarli, quindi scusate sono un po' lento. Abbiamo processato in totale 141.877 tamponi, più di 6.826, quindi in linea con quelli di ieri e abbiamo circa un numero di positivi come crescita uguale, quindi vedete è costante, quindi il messaggio del Presidente è quanto è importante e tempestivo e corretto, cioè non siamo in una fase in cui c'è una riduzione continua significativa. Abbiamo avuto una riduzione, una riduzione importante, però alla fine ci stiamo assestando, quindi abbiamo bisogno di dare l'ultima spallata, ricordatevelo, abbiamo bisogno di dare l'ultima spallata e la possiamo dare solo noi, anche perché il numero dei ricoverati è arrivato a 12.002 con una crescita oggi di 200, il numero dei dimessi oggi è di 13.242 più 222 rispetto a ieri e per quanto riguarda i decessi è chiaro che sono ancora alti, siamo a 8.656 più 345. C'è un continuo leggerissima riduzione, come vi diciamo sempre, questo sarà l'ultimo numero a ridursi perché stiamo parlando di persone che sono in ospedale, sono in ospedale da tempo e che ahimè a volte non ce la fanno, ma questo è, i numeri raccontano persone che si sono ammalate veramente tre settimane fa che hanno iniziato, che hanno contratto l'infezione circa tre settimane fa. Per quanto riguarda i numeri sulle province, abbiamo dei numeri che sono tendenzialmente costanti rispetto a ieri e cioè il Bergamo 9.588 più 273, questo è un numero un po' più alto rispetto a ieri che era un più 144, Brescia 9.180, 166, mentre ieri il numero di Brescia era molto più alto, 257, Como 1.319 più 63, assolutamente in linea con quello di ieri, Cremona 4.154 più 57 e quindi ieri era più 42, Lecco 2.238 più 24, identico assolutamente a ieri, così come Monzebrianza 2.935 più 161, quindi ieri era più 141, Milano ha una leggere, anche lui è in linea, 10.819 più 428, ieri era più 387, quindi siamo in una coerenza continua assoluta. Mantova siamo a 1981 più 97, ieri era più 102, Pavia 2.499 più 168, Sondrio 563 più 26, Varese 1.148 più 38. Purtroppo in questi ultimi giorni è stato riscontrato un ingiustificato aumento di persone sulle strade del nostro territorio, sia a piedi sia in auto, di questo si è parlato anche nel corso della visita a Clusone del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Paolo Storoni e del colonnello Michele Tirico che guida la task force di medici e infermieri dell'esercito inviata in Bergamasca. Al vertice presso la sede della protezione civile hanno partecipato anche il comandante della compagnia Carabinieri di Clusone, il capitano Daniele Falcucci e il sindaco di Clusone Paolo Olini. L'incontro è servito anche per fare in modo che vengano limitati il più possibile gli spostamenti da parte dei cittadini. Il sindaco di Clusone Paolo Olini ha detto sono molto amareggiato perché il rischio che stiamo occorrendo è di vanificare gli sforzi compiuti nell'ultimo mese. Già a partire da domani sul nostro territorio verranno intensificati i posti di blocco delle forze dell'ordine, ha detto ancora Olini. E proprio a Clusone nella settimana che va dal 30 marzo ad oggi la polizia locale ha provveduto a controllare oltre 350 veicoli che circolavano sulle strade del territorio comunale. Sono state accertate quattro violazioni al decreto coronavirus e inoltre nella giornata di oggi è stata sanzionata anche una persona partita da Milano con destinazione Valbondione che ha autocertificato di essersi messo in viaggio per cambiare un po' d'aria, spiega il comandante della polizia locale Giuliano Vitali. La polizia locale ha inoltre attivato un controllo con agenti in abiti borghesi al fine di identificare e sanzionare coloro che si allontanano da casa a piedi per sentieri, pinete e boschi per attività ludiche e comunque non indispensabili. Troppa gente in giro anche ad Albino, come dice in questo contributo l'assessore al bilancio e commercio Davide Zanga che parla anche delle iniziative per affrontare l'emergenza. Buonasera, ad Albino hanno aderito 43 attività commerciali per il servizio di spesa a domicilio. Di queste 43 attività, quattro sono farmacie e grazie anche all'apporto di volontari e al servizio reso dal centro operativo comunale di protezione civile sta funzionando tutto alla grande. Quello che non sta funzionando purtroppo è che c'è una marea di gente in giro ancora a piedi e nonostante le limitazioni, nonostante le ordinanze, la polizia locale unitamente a degli agenti della protezione civile che hanno dato il loro supporto alla polizia locale anche ieri hanno redatto numerosi verbali che hanno anche conseguenze risvolti oltretutto penali. Noi come ufficio commercio ci siamo attivati sin da subito, ho fatto anche una comunicazione ai commercianti di Albino che hanno dei bar, ristoranti che hanno dovuto chiudere per informarli che il governo e l'agenzia delle entrate hanno introdotto un apposito tributo, una voce di tributo per ottenere uno sgravio pari al 60% della rata di affitto del mese di marzo. Questo 60% sarà un credito d'imposta quindi verrà compensato con i versamenti che dovranno effettuare su contributi, IVA o altre spese. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare veramente i volontari che si stanno prodigando in un modo esemplare nell'aiutarci a superare questa crisi. Solo uniti ne usciremo e ne usciremo tutti un pochino molto cambiati con delle cicatrici profonde perché purtroppo ognuno di noi è stato toccato, se non direttamente, ma indirettamente con la spomparsa di amici che hanno fatto grande il nostro territorio. Anche a Piario diversi volontari, soprattutto giovani, si stanno impegnando per la loro comunità, mamme e nonne, inoltre confezionano camici e mascherine. Ne abbiamo parlato con l'assessore Francesco Zanotti. Vogliamo parlare dell'impegno, degli sforzi che la piccola comunità di Piario sta mettendo in campo in queste settimane difficili. Come avete affrontato l'emergenza? Allora, per fronteggiare questa emergenza del coronavirus, il 9 marzo ci siamo trovati noi della Giunta Comunale e abbiamo deciso di formare questo gruppo di volontari per distribuire la spesa ai farmaci e a chi ne avesse bisogno, in particolare alle persone over 65, famiglie in quarantena o chi ne avesse bisogno per altri motivi. Nel giro di qualche ora, ci siamo per messaggi, Whatsapp e cose varie, abbiamo raggruppato un gruppo di volontari di 15 persone. Abbiamo deciso come distribuire questi beni di prima necessità e dal 9 marzo abbiamo subito iniziato la distribuzione. La mattina distribuiamo la spesa, quindi nei vari negozi e invece nel pomeriggio distribuiamo i farmaci. Questo servizio viene fatto dal lunedì alla domenica mattina e ad oggi in media consegniamo a 30 famiglie, quindi stiamo dando un bel servizio per il nostro paese. Allora, è bello vedere che in questo momento, come un gruppo di giovani, perché meno male siamo tutti giovani, si dia da fare per le persone che hanno bisogno. In questo momento ho un po' di paure, di varie emozioni che si creano. Vedere questa gente ti dà un sospiro di sollievo. C'è anche un gruppo del paese che si sta impegnando a realizzare tutte quelle protezioni che in questo momento sono indispensabili. Sì, ormai il gruppo delle fate, un gruppo consolidato nel nostro paese di mamme e nonne, hanno da alcune settimane sommesse a realizzare delle mascherine e dei camici per chi ne avesse bisogno. Queste mascherine le abbiamo distribuite alle persone che hanno fatto richiesta e anche durante la spesa della mattina a chi avesse bisogno. Oltre alle mascherine, come ho già detto, stanno facendo dei camici per altri enti come i casi di riposo della zona. Queste mascherine sono igienizzate dalla lavanderia del paese e da settimana prossima inizieranno anche a fare delle mascherine per i bambini, quindi delle mascherine più piccole che possono utilizzare anche i bambini. Volevo ringraziare tutti gli esercenti che ci stanno dando una mano in questo momento, che stanno collaborando con noi appunto per portare la spesa a tutti quelli che ne hanno bisogno e il gruppo delle mamme, tutte quelle persone che hanno capito di restare a casa, perché è importante, dobbiamo restare a casa seguendo le regole. Cordoglio a Ponte Nossa per la scomparsa di Franco Moioli, persona molto conosciuta in paese. Si è spento ieri all'ospedale di Piario, dove era ricoverato da domenica con gravi problemi respiratori. Aveva 76 anni. Dopo aver lavorato alla Cantoni di Ponte Nossa, si era dedicato a dare una mano ai figli Learco, meglio conosciuto come Leo e Mauro. Entrambi hanno infatti aperto negozi di oreficeria, prima Leo più di 30 anni fa a Ponte Nossa, poi Mauro a Gandino. Si vedeva spesso Franco Moioli in negozio, pronto ad ascoltare le esigenze dei clienti o ad aiutare i figli. Persona molto semplice e disponibile, Franco Moioli era anche un grande tifoso dell'Atalanta. Negli ultimi anni aveva seguito tutte le trasferte della squadra in Europa, anche a Cipro e in Ucraina. Oltre ai figli lascia la moglie Anna. E sono tanti i bisogni che emergono in questo periodo, tra questi anche la necessità di decontaminare i mezzi con cui si muovono medici e personale sanitario. A questo scopo è partita una raccolta fondi che riguarda in particolare anche il presidio di Ponte Nossa. Laura Marino, presidente dell'associazione Fiso Onlus, impegnata in questo periodo di emergenza ad aiutare in diversi modi, con diverse iniziative, il territorio. Che cosa state facendo? La nostra associazione che nell'acronimo si legge Fisiologia e Igiene e Salute Orale, si occupa tendenzialmente di prevenzione primaria e di salute orale. Però come professione sanitaria, che appartiene a una grossa famiglia di professioni sanitarie, ci siamo messi in gioco come potevamo adoperarci in questa emergenza. E così abbiamo pensato di avviare una raccolta di dispositivi di protezione individuale e in tre giorni, dal 13 marzo, attraverso studi odontoiatrici, igienisti e professionisti che ne fanno normalmente uso, ne abbiamo consegnato e distribuiti, attraverso volontari della protezione civile, circa 2000 in Val Seriana. Li abbiamo distribuiti a tutti, cioè ai comuni, alle case di cura, a operatori sanitari, a medici. Insomma, abbiamo centellinato e distribuito in modo abbastanza equo per far fronte all'emergenza. L'abbiamo fatto con le bombole, quindi la necessità delle bombole di ossigeno e soprattutto dei vuoti che dovevano essere restituiti e così adesso stiamo cercando di coprire la necessità di materiale e attrezzature per la decontaminazione di spazi e di mezzi. I mezzi che vengono utilizzati dai professionisti sanitari vengono disinfettati localmente da loro, però ora dopo 4-5 settimane di interventi direi che una decontaminazione ne abbiano bisogno. Abbiamo chiesto la Croce Rossa che farà il primo intervento, però dobbiamo garantire una continuità e quindi la raccolta che noi facciamo è per acquistare una macchinetta a ozono che consenta per saturazione d'ambiente di decontaminare queste macchine e metterle a disposizione di tutti i medici e quindi abbiamo trovato anche una sede che è quella presso l'Itineris che è a Ponte Nossa, è un punto un po' di raccolta dove si svolge assistenza domiciliare, infermieristica e medica su tutto il territorio. Quindi sarebbe affidata a loro tutta la parte gestionale, ovviamente senza limitazioni, non è loro la macchinetta, è data in concessione d'uso a quella parte di valle. Poi anche dispositivi di protezione, quindi più noi raccoglieremo, più potremo intervenire nell'immediatezza, abbiamo tanti, anche i test potrebbero essere proposti, insomma si possono fare dei veri progetti anche in collaborazione con altre organizzazioni. Noi siamo piccoli, però andiamo in modo mirato, vogliamo prendere e subito intervenire, qui, ora e subito, perché se no non serve l'intervento con i grandi progetti, insomma. Questo è quello che abbiamo verificato noi sul territorio, la necessità è immediata. Stiamo vivendo una crisi sanitaria e sociale, ma con forti ricadute anche a livello emotivo, per questo l'ambito della media e bassa Valle Seriana ha messo a disposizione un servizio di supporto psicologico. Siamo in collegamento con Nicoletta Rota, psicologa, referente per gli psicologi dell'Utes, della media e bassa Valle Seriana. Avete istituito un servizio di supporto psicologico, perché? Allora, faccio una piccola premessa dicendo che questo servizio di ascolto e supporto è stato istituito appunto dall'Utes, che è l'unità territoriale di emergenza sociale dell'ambito territoriale della media e bassa Valle Seriana, che ha in collaborazione con la società servizi Valle Seriana e il consultorio Valle Seriana, che ha messo a disposizione gli operatori, gli psicologi che rispondono al telefono. Allora, questo servizio è stato istituito perché sollecitato e auspicato da una serie di richieste e anche da alcune categorie professionali come medici, di medicina generale, pediatri, farmacisti, che nel loro lavoro quotidiano stanno rilevando e raccolgono un importantissimo bisogno di supporto e sostegno alla popolazione che trovano spaventata e molto superente in questo momento. Siamo in una situazione di emergenza sanitaria e sociale, ma anche e soprattutto in una situazione di emergenza emotiva che coinvolge tutta la popolazione. Stiamo affrontando delle condizioni eccezionali, abbiamo vissuto una percezione di minaccia per la nostra salute, per quella dei nostri cari, di isolamento, di restituzione, e quindi stiamo vivendo una situazione che si configura come una situazione di elevato stress emotivo e quindi a rischio per il benessere psicologico di tutta la popolazione, perché nessuno in questo momento è escluso. Ci sono sicuramente delle categorie più a rischio, che sono le specie di persone che hanno impattato con questa malattia, che purtroppo hanno avuto anche dei lutti, oppure gli operatori sanitari che hanno dovuto comunque lavorare in condizioni di estrema emergenza e hanno davvero dovuto far fronte a situazioni molto difficili. Però in generale tutta la popolazione sta vivendo una situazione di emergenza. Ci sono sicuramente anche tantissime situazioni di fragilità, altre situazioni in cui penso per esempio agli adolescenti che in questo momento devono e soprano molto la restrizione di tipo sociale, perché non riescono ad avere contatti se non con i social con i loro coetanei. Quindi sicuramente tutta la popolazione è interessata. Questo telefono risponde al numero 035 02 66 466 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È stato attivato di primo di aprile. In linea ci sono 10 psicologi. È un servizio che si pone l'obiettivo principale di fornire aiuto attraverso un ascolto empatico, attivare interventi per normalizzare e validare le reazioni emotive delle persone e anche aiutarle ad attivare le loro risorse e la loro resilienza personale. Ogni telefonata è prevista un colloquio di un massimo di 30 minuti per poter consentire di rispondere al maggior numero di persone e di richieste possibile. Però è possibile per i cittadini ricontattare il servizio per un nuovo ascolto e sostegno. In questo momento non si sta facendo una vera e propria presa in carico, ma è pura degli operatori valutare poi le richieste che pervengono a questo servizio ed eventualmente orientarle su altri servizi che sono ancora qui. Verso la fine del Tg apriamo la nostra pagina degli auguri, questa sera dedicata al signor Lorenzo Cremaschi di Parre, che compie 80 anni. Tanti auguri dalle sorelle Regina, Elisa, Anna e Rita. Tanti auguri naturalmente anche da parte di Antenna 2. E adesso i programmi sulla nostra emittente, questa sera sul canale principale, alle 20.30 la rubrica Il Rotocalco, alle 21.00 il settimanale di Sport S4 Sport Outdoor, alle 21.45 Manenobiscum, alle 22.10 Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.20 più Salute News, alle 23.35 la rubrica Sport e Tempo Libero. Il canale News 218, alle 21.30 il Tg, alle 22.30 la rubrica più Salute News, il canale sportivo 628, alle 20.30 Antenna 2 Sport, alle 21.30 Ski Magazine. Chiudiamo con l'almanacco, domani è domenica 5 aprile, il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.59, la luna in fase crescente, sorge alle 16.28 e tramonta alle 6.25 di lunedì. La Chiesa celebra la Domenica delle Palme. Ed è tutto anche per questa edizione, vi ricordo dopo il Tg l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla. Grazie di nuovo per averci seguito, buona serata e buona domenica. Grazie di nuovo per averci seguito, buona domenica.